Oggi vi parlo di un brand che avrete magari sentito nominare oppure no visto che è un marchio artigianale che sta un pochettino più sotto diciamo ed è conosciuto magari da chi naviga spesso in studio di trazione ed è un brand americano. Sto parlando di Greg Keplinger. Greg Keplinger originario di Seattle inizia la sua carriera nel mondo delle percussioni come batterista suonando in diverse formazioni jazz, new wave e r&b. Dopo aver trovato un rullante Ludwig 14x6,5 degli anni 30 in metallo si innamorò immediatamente del suo suono e decise di simendarsi nella costruzione dei rullanti. La storia del marchio Keplinger inizia verso la fine degli anni 70 quando durante una pausa dalla sua attività musicale iniziò con l'aiuto di un amico ingegnere a produrre i primi prototipi sperimentando diverse sonorità. Dopo aver avuto diciamo la benedizione di uno dei suoi primi prototipi da un batterista di nome Elvin Jones iniziò la produzione dando proprio a lui uno dei primi rullanti che costruì proprio su sua richiesta. Keplinger utilizza come materia prima una lamina dello spessore di 3 mm circa che viene piegata e saldata. Il materiale viene fornito da una fabbrica di tubi industriali di Seattle. I bordi non sono flangiati ma il profilo è dritto con l'estremità arrotondata. Dopo diversi tentativi arrivò al prototipo dei rullanti che sono tuttora in produzione e si trovò sotto le bacchette un strumento che suonava più forte e con maggior risonanza di qualsiasi altro rullante lui avesse mai suonato. Keplinger con la schiettezza e la sincerità che lo contraddistinguono disse in un'intervista del 1989 che è successo tutto per caso non sapeva quale sarebbe stato il risultato finale e stava semplicemente sperimentando cosa che i costruttori di tamburi e in tutto diciamo il settore fanno veramente veramente tanto e da lì che nascono proprio le idee. Attenzione perché adesso sembra scontato ma vi ricordo però che alla fine degli anni 70 non esistevano rullanti così spessi e pesanti e con questo tipo di costruzione. La maggior parte erano costruiti in stile diciamo Ludwig quindi sottili e con i bordi flangiati oppure erano in legno. Il risultato di Keplinger era veramente notevole e con una sonorità totalmente diversa rispetto agli strumenti che si utilizzavano in quel periodo. Ma il balzo avvenne quando Keplinger assistette ai Bad Animal Studio X di Seattle un batterista di nome Matt Cameron che era in procinto di registrare con la band Soundgarden un disco che segnò assieme a tanti altri l'epoca grunge. Sto parlando di Super Agnove del 1994. Keplinger era stato assunto per gestire la strumentazione e quindi velocizzare tutti i processi di soundcheck e ricerca dei suoni togliendo il batterista Matt Cameron in questo caso il peso di dover fare tutto da solo e lasciandolo in pratica libero di pensare unicamente alla musica e concentrarsi sui take che doveva suonare. Quindi no sbattimenti extra mi concentro esclusivamente sulla musica e a questo che servono i drum tech in studio. Keplinger portò con sé uno dei suoi rullanti che piacque tantissimo al produttore Michael Bainhorn e finì per essere utilizzato nei brani Let Me Drone e per la super hit Black Hole Sun. Il rullante in questione era un 14x8 in acciaio proprio come questo che nel frattempo si è materializzato qua con noi. La popolità del brano unita al particolare suono del rullante in pratica aprirono le porte di ogni studio di trazione ai prodotti Keplinger. Greg Keplinger andò in tour per diversi anni anche come drum tech di Matt Cameron sia con i Soundgarden che poi con i Pearl Jam. Matt Cameron è endorser Yamaha da diversi anni ma utilizza tuttora un rullante Keplinger che può essere un 14x7 oppure un 14x5,5 come quello che vedete qua mentre la batteria utilizzata per le registrazioni di Super Unknown è stata principalmente una di V. Nel 1995 Keplinger inizia una collaborazione col brand canadese Ayotte per il quale disegnava dei fusti. Per poi tornare totalmente alla sua produzione indipendente nel 2010. L'estetica come vedete rimane grezza soprattutto su questi modelli in Black Iron. Qualcuno dice sia lo specchio della sua personalità in your face proprio come il suono dei suoi strumenti. Qui invece vedete l'ormai iconico timbro interno al fusto Not Fragile che è stampato sotto la data di produzione e la sua firma. L'hardware non è nulla di speciale sono dei tube lugs con dei cerchi tripla flangia e un ten di cordiera molto funzionale in questo caso Dannet R4 quello che si gira insomma usato da tantissimi produttori custom. I rullanti Keplinger sono disponibili in acciaio stainless steel, Black Iron che è sempre acciaio inossidabile ma con una finitura diversa sia interiormente che esteriormente proprio come questi che ho qua, ottone e rame. Se volete approfondire la sua produzione potete trovare diverse info sul suo sito. La sonorità è esplosiva c'è tanto attacco suonano tanto e danno veramente molto volume in pratica quando voi lo suonate puff ve lo sentite quassù ed è lo stesso gesto che ho visto fare ai diversi ragazzi che sono venuti alla masterclass che ho fatto ai Marty studio a Riccione il 19 e 20 settembre in pratica quando suonate uno strumento che suona tanto sentite che vibra addosso e wow wow ce l'avete quassù insomma non è un suono che rimane lì diciamo un po più composto qui c'è tanta risonanza tanto suono che poi viene preso dagli overhead che sono i microfoni che ci fanno suonare la batteria. Un'altra delle caratteristiche distintive dei prodotti Keplinger è il classico ring associato all'acciaio che se è ben intonato col brano tramite una curatura curata chiaramente contribuisce ed ha un tocco caratteristico a ciò che stiamo registrando esattamente come nei brani che ho appena citato. Keplinger è consapevole di non poter reinventare la ruota in un settore dove ormai veramente come mi disse Brock Carisher che il precedente di Remo è stato inventato di tutto ormai però la sua idea è sempre stata quella di differenziarsi e cercare nuove sonorità. Fu così che nel 2004 il batterista dei Dead Cab for Cutie Jason McGurr gli chiese di costruire delle percussioni ausiliare. Proprio insieme a McGurr Keplinger inventò diversi tipi di effetti fra cui gli ormai popolarissimi ching ring assieme ad altri vari strumenti sempre rigorosamente costruiti in acciaio piatti compresi. Visto che ci siamo vi leggo giusto un paio di nomi degli estimatori e acquirenti che chiaramente Keplinger non è una ditta grossa come può essere un marchio che costruisce batterie a livello industriale e quindi i batteristi acquistano questi prodotti. Vi dico giusto due nomi partendo dal passato. Elvin Jones, Art Blakey, Charlie Watts, Matt Cameron, Matt Chamberlain, Jason McGurr, Abe Laboriel Jr., Cody Willis, Glenn Cochy, Jason Sutter, Mike Giuliana, Joe Plummer, Dave Illich, Dave Grohl e diversi studi di registrazione come gli Avast Studio, London Bridge Studio e l'enorme collezione dei Blackbird Studio. Sono solamente alcuni clienti dei lavori di Keplinger. Il Blackbird Studio forse è lo studio di registrazione con più equipment in pratica, con più materiale forse al mondo. Vabbè andatevelo a vedere, microfoni è una roba pazzesca, hanno un sacco di distanze e hanno una collezione di Keplinger, dei primi, quelli con i blocchetti esagonali che era la prima produzione di Greg, veramente infinita, credo che ci siano almeno 15-18 rullanti. Vorrei concludere con una citazione di Art Blakey riguardante i rullanti Keplinger. It's a good drum, I would have been playing it if it weren't. Quindi è un ottimo rullante, non lo suonerei se non lo fosse. Suona un po' scontrato ma al tempo dove insomma non c'erano endorsement, si parla di chiaramente Art Blakey, andiamo veramente tanto indietro, erano le sue prime produzioni, parliamo di Keplinger, chiaramente erano le prime produzioni di Keplinger e non c'erano endorser, foto, youtube, cose, quindi la gente spesso suonava quello che gli piaceva, era molto più genuina la cosa, chiaramente poi i tempi cambiano e si va avanti. Questo è per quanto riguarda Keplinger, spero di avervi dato diverse informazioni. Sul suo sito è ancora attivo, volete comprarvi un rullante, non dovete impazzire perché è tuttora in produzione, ve lo comprate nuovo, usato si trova veramente di poco in giro per quanto riguarda questo momento, siamo nel 2020, e se riuscite a provarli in qualche maniera, difficilissimo perché in Italia io non ne ho mai trovati, li porterò chiaramente alla prossima Drum Studio Masterclass che stiamo organizzando, comunque se vi farò sapere pubblicherò tutti i vari update e avrete, se volete, la possibilità di provarvele. A presto!